Salve a tutti, benvenuti in questo piccolo vlog, anzitutto mi scuso se non ho fatto più video, ho continuato la serie di The Sims 3, ma con la mia pagina che potete, che serve YokoX della Robling, che trovate qui da qualche parte, qui, in tutto il video lo metterai. Però, volevo parlarvi di tre cose, uno, la serie di The Sims andrà avanti e uscirà proprio domani, ho fatto anche un piccolo orario, non so se si vede, si vede, si, ora ve lo spiego per bene. Settimanale per, che andrà avanti per un paio di settimane, uno o due settimane, sarà così, magari in una settimana faccio più Minecraft che The Sims, ma credo che sarà più The Sims che Minecraft. Poi, sto, ho creato una piccola pagina, che è anche un sito, che si chiama The Sims World, metterò tutto nella descrizione o nel pallino che esce sempre, in alcuni video. Un link per poter andare al sito e, se volete, potete anche collaborare con me. Poi, oggi cercherò di scaricare un piccolo gioco, piccolo, cerco di trovare il gioco di Harry Potter, il peggio di Azkaban, per computer. E questo sarà più sul sabato, qualcosa del genere, sì, sabato. Intanto, mi riprendimento un'altra cosa. Di videogiochi, mettete nei commenti, scrivete, commenti se vi piace, come idea. Giocare, 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 fare delle guide, tipo una guida di Phoenix Wright e del Professor Layton. Quindi, dobbiamo andare lì, questo e questo. Si prova a fare. Giusto, delle guide così. Più che tanto ci giochi ed è una guida, nel senso. Quindi, non so, guida così, se vi piace. Semmai quella la faccio senza voce, poi vedo. Ok, bene. Diciamo l'orario. Lunedì, farò lunedì, mercoledì e venerdì ci sarà The Sims, martedì e giovedì Minecraft e il sabato Harry Potter. Da domenica sarà libera perché mi metterò soprattutto a registrare i video della settimana, oppure a trovare nuove cose per i video. Quindi, se mi viene in mente qualcosa, provo in quel giorno a fare io, semmai la domenica metterò qualcosa di più lieve. Poi, non so come si sentirà questo video, ma spero bene. Quindi, io non avrei altro a dire. Quindi, appena finito questo, e lo caricherò, mentre starà caricando, io starò già registrando i video. Quindi, non saprei. Vabbè. Grazie per aver visto questo piccolissimo vlog. Ditemi una cosa nei commenti. Se vi piace questa inquadratura, ho un'inquadratura dal letto, che sarà tipo così, che si vede il letto e la mensa. Fatemi sapere se vi piace questa idea. Non saprei più che dirvi, quindi... Al prossimo video. Ciao.